Salve, mi trovo nello studio nuovo di Televallanta, studio nuovo per un programma nuovo, infatti partirà a breve una nuova rubrica dal titolo Cara Vallata e in questo studio, in questo salotto tutti voi potrete essere i protagonisti perché potete sedervi qui e dire la vostra, ma dire la vostra su che cosa? Beh, quello lo decidete voi, basterà avere un argomento, porre una domanda, ma anche se non è istituzionale, anche se è una semplice curiosità, va bene lo stesso, l'importante è che si parli dell'avallata, dei suoi problemi, dei suoi pregi, delle sue migliorie, ma delle già tante belle cose che si stanno facendo, quindi tutti voi siete ospiti di questo salotto, un nuovo salotto per una nuova trasmissione, quindi affrettatevi perché presto partiamo! Grazie a tutti!